a tre un trattamento a tre un trattamento a tre che significa un trattamento a tre allora significa io prendo la campana lavoro su edoardo lo muovo uno poi nuovo anche lisa no elisa scusa sara lavoro su sara e poi lavoro su alessandra lavoro su 2 e 3 in parallelo però lei c'ha il numero 2 invece al numero 4 senti il numero 3 1 2 3 c'è ogni numero in base alla rinascita il trattamento io me lo faccio in base 4 io sono nata il 20 dicembre del 67 benissimo il sacerdario del 67 e la facciamo sempre ok ognuno ha i suoi numeri magici io ve l'ho detto che mi avrei soddisfatto completamente da tutti i punti di vista ecco forza la giuventina la fiorentina forza la fiorentina forza la fiorentina eccola la stupenda guarda com'è felice com'è felice pure lei basta path Grazie a tutti.